La Disney Features presenta un classico caso di rapimento di gatto. Sono sparito, che giro! Che cosa sarà? Il suo fanno ha terminato un guai. E lui li ha rapigato. I gatti stanno scappando. Venite tutti fuori, stucciatevi. Ma qualcuno ha deciso di aiutarli. Corri, cron! E avventura! Oh no! Imprevisti! Amore! No, ma che finisci! Musica! Ma qual è il ridicolo! Francesco! Ma più di ogni altra cosa! Stanzio! È un divertentissimo film Disney! Tutti quanti! Tutti quanti! Tutti quanti! Alleluia! E' il cartone animato Disney più gattoso che ci sia! Eristoga... Ehi, 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 ehi.